In questi giorni, tra una festa, una cena, una celebrazione, ma anche tra una giocata con gli amici a tombola piuttosto che a carte, noi abbiamo cercato di tanto in tanto di lanciarvi qualche piccola provocazione sul senso del Natale. Perché, ahimè, se è vero che oggi sparlare del Natale consumista, di un Natale che non è Natale, è diventato di moda, è pur vero che comunque il Natale, come la Pasqua, per noi credenti, pur rimanendo fondamentali, pur essendo il mistero della nostra fede, ma noi viviamo questi appuntamenti quasi come appuntamenti annuali, quasi come un'abitudine. celebrazioni, una tandem e finisce lì. No, no, no. Non è questo il Natale che dobbiamo vivere, piuttosto che la Pasqua, eccetera. È il Natale dell'anima, il Natale mistico, il Natale in cui la nostra anima desidera unirsi sempre di più con questo Dio che si è fatto bambino. E se ieri ho parlato di un convertito come Giovanni Papini, oggi voglio parlarvi di un altro grande convertito della storia, che ha ritrovato la fede a partire da una inquietudine che è sorta nel suo cuore mentre il pomeriggio di Natale passeggiava vicino Notre Dame di Parigi e lì sente un canto meraviglioso del Vespro da parte dei bambini ed entra in cattedrale. Sto parlando di Paul Crudel, un grande convertito, un grande pensatore francese. Per chi va a Notre Dame a un certo punto trova sul pavimento una lapide in cui si dice che il 25 dicembre del 1886 qui iniziò la conversione di Paul Crudel. E questo grande momento della sua vita, lui stesso, questo scrittore e romanziere francese che è morto nel 1955, lo racconta in un'atmosfera tra l'inquietudine e la ricerca della verità. Una conversione, diciamo, che inizia più o meno quando lui ha 18 anni. Bene, ascoltiamo le parole di Paul Crudel con cui racconta questo inizio della sua conversione. Stavo in piedi, chiaramente parliamo di Notre Dame de Parigi, della cattedrale dei Parigi. Stavo in piedi in mezzo alla folla, accando al secondo pilastro, all'entrata del coro. Fu allora che si produsse l'evento che domina tutta la mia vita. In un attimo il mio cuore fu toccato. Io credetti. Avevo provato improvvisamente il sentimento lacerante dell'innocenza. L'eterna infanzia di Dio. Dio esiste. Dio è qui. Dio è qualcuno. È una persona come me. Mi ama. Mi chiama. Je crois. Ci vediamo domani. Padre Pio TV. Dritto al cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.